Sta bene ed è stata ritrovata Valentina Timoncini, la 22enne residente nella frazione Aquiliana di Cese di Preturo, scomparsa nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Si trovava a Monte Ferrante, in provincia di Chieti, dove sarebbe giunta da sola domenica pomeriggio. Dopo aver vagato per il paese, una signora anziana del luogo la prima ospitata in casa e poi rifocillata, permettendole di passare la notte nella sua abitazione. Ieri mattina la notizia della ragazza che era stata ospitata dall'anziana ha fatto il giro del paese ed alcuni, dopo aver visto la sua foto sui media, hanno chiamato i carabinieri di bomba, coordinati dal comandante di distrazione Vito Gian Lorenzo. Già in serata, la 22enne avrebbe fatto il ritorno a casa, accompagnata dai propri genitori. Prima di far perdere le sue tracce, aveva mandato un sms alla famiglia e al suo fidanzato, con l'invito a non cercarla. Il telefonino poi era stato subito spento. La ragazza, che si era allontanata da casa dopo un litigio domestico, era andata via con un borsone. Nella mattinata le ricerche erano riprese in tutta la zona di Preturo, ma non si escludeva che la giovane avesse lasciato la città. La task force, organizzata dai vigili del fuoco, coordinata dalla prefettura, era stata allestita nei pressi di Villa Letizia a Preturo. Per i genitori e gli amici è di certo la fine di un'angoscia. Sarà Eugenio Colcia il primo rettore della nuova scuola universitaria superiore Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, che ormai è diventata a tutti gli effetti la seconda università del capoluogo. La nomina, annunciata da giorni, è stata ufficializzata ieri ed è solo la prima di una serie che vedrà il GSI completare gli organi con un direttore generale, il Consiglio d'amministrazione e il Senato accademico. Colcia, 60 anni, già direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dal 2003 al 2009, ha guidato come direttore lo stesso Gran Sasso Science Institute nel triennio sperimentale dell'Istituto, attivato all'Aquila nel 2013. Il neorettore comincerà il suo mandato dopo il decreto di nomina da parte del Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca Stefania Giannini. Per il decano del Senato accademico e dei docenti del GSI, il professore Sergio Petrera, l'elezione è il risultato più atteso da tutta la comunità, dal più giovane allievo al professor Carlo Rubbia e il coronamento di un percorso in cui il neoeletto ha profuso tutte le sue energie. Coniugare ambiente, turismo e sviluppo socio-economico è quanto si sta provando a realizzare nella riserva naturale regionale Grotte di Luppa che si estende all'interno del comune di Sante Maria in provincia dell'Aquila su una superficie di circa 435 ettari. Proprio per questo il programma di iniziative estive e gli investimenti messi in cantiere sull'area sono stati studiati in sinergia tra i vari portatori di interessi dell'intero comprensorio di Sante Maria sia per promuovere la conoscenza dell'identità della riserva e la biodiversità che in essa è racchiusa sia per il riconoscimento delle produzioni tipiche che caratterizzano il territorio per le quali è stato formulato un regolamento che consentirà di avere un marchio che certifichi la qualità dei prodotti realizzati nell'area della riserva. È una gestione piuttosto complessa perché parte da un dato di infrastrutturazione materiale e immateriale il cui avvio è avvenuto solo nei mesi precedenti ma che già sta dando risultati infatti la riserva ha diverse centinaia di visitatori che la percorrono e si sta dotando di tutti quelli e mezzi necessari all'erogazione dei servizi quali quantitativi standardizzati sui massimi livelli abruzzesi e dei segmenti turistici che vengono attratti. È un sistema complesso, è un sistema che ha bisogno ancora di tempo per essere rodato pienamente ma che si sta sviluppando secondo direttrici che sono quelli della Green Economy. Partiamo infatti dalla realizzazione di nuovi sentieri, la manutenzione di questi sentieri, la cartellonistica di servizio, il sito della riserva, la pagina Facebook della riserva, degli operatori qualificati che accompagnano, corsi per operatori di riserva, l'apertura del polo museale, la riproduzione della grotta di Luppa all'interno in una delle stanze del polo museale, il calendario estivo con una serie di eventi tematici che portano alla sensibilizzazione e alla conoscibilità dell'area per poi giungere anche alla fase convegnistica che ci accompagnerà all'Open Day, la famosa Sagra della Castagna di Santa Maria con le sue decine di migliaia di visitatori.